Bella a tutti qui Trifix, chi vi parla e finalmente possiamo partecipare ai 100 giorni di anniversario di solo leveling rise quindi dall'uscita del global sono passati ben 100 giorni e ci sarà un grande periodo di eventi dove dovremo ritirare numerose ricompense all'interno di questo periodo infatti sarà possibile ogni qualvolta logheremo tutti i giorni ritirare delle ricompense mi raccomando guardate bene perché ci sono molti ticket da dover ritirare ben 50 solamente con il login più altri 50 una volta fatti determinati eventi all'interno di questo periodo oltre al fatto che sarà possibile anche ritirare il nuovissimo personaggio presidente è stato aggiunto finalmente la possibilità di poter scambiare a costo zero i nostri artefatti infatti se andiamo all'interno dei nostri artefatti e cerchiamo di scambiare un pezzo che sia anche più 20 noteremo che benché ci chieda una tassa sopra, in questo caso 6.000, non verrà detratto dal nostro conto per la prossima settimana è anche previsto un merge dei server cosa vuol dire? vuol dire che durante il periodo di early access era stato necessario dare degli slot a più gente questo perché c'è stato un grande afflusso di persone ciò nonostante nel periodo di gioco quindi anche dopo la global molte persone sono andate a FK, hanno smesso di giocare e quindi molti server si ritrovano con tanta gente non giocante per questo motivo sarà necessario per Netmarble unificare i server e per capire in quali server apparteniamo basterà entrare all'interno del gioco andare nelle impostazioni e vedere in quale server siamo allocati quindi in questo caso rotellina, account e questo è il server il mio è il 326 andate a vedere la tabella e vedrete in quali server apparterrete quindi potrete anche essere uniti con i vostri amici vi ricordo che per il 22 dovrebbe uscire anche il nuovo personaggio supporter tipo verde e per quanto riguarda il presidente dovrebbe essere un tank in grado di drenare gli scudi di tipologia luce almeno per quanto abbiamo visto nella live precedente invece per quanto riguarda il contenuto della gilda mi raccomando verso fine di questo mese detto questo come sempre io vi ringrazio della visione ci becchiamo alla prossima, ciao a tutti